Modularità Modularità è un concetto che nasce dall'esigenza dei nostri clienti, i quali chiedevano un prodotto eccellente dal punto di vista delle prestazioni come i prodotti Eletrodex sanno fare, ma con la possibilità di avere una connessione elettrica intercambiabile. E quindi abbiamo studiato un nuovo prodotto, l'MPS, con materiali completamente diversi. La progettazione è stata fatta con materiali completamente diversi, con un interruttore di derivazione aeronautica in grado di poter lavorare indifferentemente a 250 volt in corrente alternata e 7 ampere con carico resistivo di 7 ampere oppure con un carico induttivo di 4 ampere, piuttosto che può lavorare indifferentemente a 28 volt con 7 ampere. Le connessioni elettriche che si possono applicare sono la connessione Faston, la DIN 43S150, la Deutsch e l'M12. Oggi, grazie all'intercambiabilità della connessione elettrica, i costi di stoccaggio del prodotto si riducono drasticamente, aumentando parallelamente la rapidità in risposta alla domanda grazie alla flessibilità. Ieri, Eletrotec era in grado di fornire il pressostato corretto in funzione delle esigenze di utilizzo del cliente in tensione e corrente. Lo svantaggio era avere diversi tipi di pressostati per diversi utilizzi in tensione corrente. Oggi, per ogni esigenza di tensione e di corrente, Eletrotec, grazie all'innovativo interruttore utilizzato, è in grado di fornire un solo prodotto per ogni esigenza. Il risultato di questa innovazione è una sensibile riduzione dei costi di magazzino, sia dei nostri clienti, sia dei nostri concessionari. Ieri, i nostri concessionari e clienti erano costretti a mantenere scorte di prodotto con uguali caratteristiche, che deferivano unicamente per la connessione elettrica. La progettazione ex novo del nuovo pressostato modulare MPS è stata effettuata utilizzando nuovi materiali ed attuando un miglioramento delle prestazioni del prodotto grazie ad una drastica riduzione dell'energia dissipata. Ipotizzando un mercato di 2 milioni di pressostati e valutando la minore energia dissipata da ciascuno di questi nel corso della propria vita utile, si ottiene un risparmio energetico di 82 gigawatt, pari a 32 tonnellate di anidride carbonica, in meno risparmiata alla nostra cara e amata Terra. Grazie, Eletrotec! Grazie a tutti!